Com'è andata la convalida? E' andata come mi aspettavo, nel senso che la linea ha risposto tutte le domande del giudice, il PM e le mie, ha chiarito alcuni aspetti importanti e ha sostanzialmente confermato con delle specificazioni quello che aveva dedicato al procuratore capo l'altra serie. Quindi è stata il PM confermata la richiesta del carcere? Il PM ha confermato la richiesta del carcere a cui mi sono posto chiedendo gli arresti domiciliari e contestando naturalmente le esigenze del carcere per come le ha esposte nella sua richiesta. Mi la ringrazio allora.